Appassionati agli altri, anche se possono deluderti. Appassionati alla verità, anche se può farti male. Appassionati alla gioia, anche se incontri il dolore. Appassionati ai tuoi progetti, anche se ti sembrano irraggiungibili. Appassionati all'allegria, anche se ti sembra che non ci sia niente da ridere. Appassionati all'amore, anche se può essere rischioso. Appassionati alla creatività, anche se ti sembra di non avere idee. Appassionati alla gratitudine, anche se stai perdendo qualcosa. Appassionati a te stessa, anche se hai paura di incontrare la tua vera natura. Appassionati alla tua capacità di appassionarti. È un'arte. Le persone appassionate non sono quelle senza problemi e senza difficoltà, ma sono quelle che portano nella vita la passione nonostante i problemi e le difficoltà. La passione è come una pianta. Se la alimenti, cresce rigogliosa e nutre le tue giornate. Una vita appassionata è una vita davvero vissuta. Simona Oberhammer